Mi ci vuole un respiro per parlare di cortocircuiti emozionali, potrei chiedervi di venire qui e guardarvi e il cortocircuito partirebbe. Allora mi occupo di bimbi che non ce la fanno e di bimbi che fanno fatica a scuola, di bimbi che fanno fatica a crescere, di bimbi che non si sentono capiti, di bimbi che soffrono e questo ha modificato la mia storia, la mia storia di scienziato. Quindi l'altro giorno ero in un polo apprendimento che è dove aiuto questi bimbi e in questo polo apprendimento una di queste bimbe mi guardava perché io ero preoccupata su come iniziare oggi a parlarvi in pochissimi minuti di cosa facciamo noi e di perché sono qui. L'ho guardata e le ho detto sai non so da dove cominciare. Lei mi ha sorriso e mi ha detto dall'inizio devi cominciare, si inizia sempre dall'inizio. E quindi ecco lì vedete me che in qualche modo rappresenta il mio inizio, il mio inizio di scienziato e la mia partenza per andare a studiare e a capire che cosa. Quello che da un certo punto di vista mi ha affascinato per tantissimo tempo, cioè il rapporto tra il cervello e la mente, tra il cervello e l'anima, tra cosa sentiamo e com'è possibile che sentiamo così. E quindi ho passato anni, anni ad affascinarmi per questa struttura straordinaria, il cervello è una struttura straordinaria, ai millesimi di secondo in questo momento voi avete milioni di miliardi di connessioni che mettono in moto tutta una trasformazione di ciò che siete stati e di ciò che sarete. E a modificare tutto questo sono le informazioni che stanno entrando e che in qualche modo seminano qualche cosa di nuovo che determina potatura in ciò che voi siete stati fino ad adesso e nuove gemmazioni. Questo miracolo che misura un meccanismo che si chiama zona di sviluppo prossimale è uno dei processi più affascinanti della vita, è quello che rappresenta l'essere vivente che ciascuno di noi momento dopo momento sceglie di essere. Quindi dopo aver studiato tanto tutti questi meccanismi sono tornata, sono tornata in Italia e che cosa mi è successo? Ho incontrato un bimbo, l'ho incontrato in un corridoio verde di ospedale, le mura erano veramente terribili, davano l'idea di qualche cosa che non curava ma opprimeva. Questo bimbo aveva otto adulti insieme a lui, oltre ai genitori, gli assistenti vari, i docenti vari, gli ospedalieri e l'infermiera gli ha detto che lì comandavo io. Quello che io ho fatto è stato un gesto da lontano in fondo al corridoio, cioè mi sono abbassata e gli ho sorriso. Questo gesto ha fatto sì che lui sia corso verso di me, mi abbia preso per il camice e mi abbia detto quella parola che leggete, gli ultimi. Ora io di questo bimbo non so più niente, ma quello che so è che ha cambiato la traiettoria della mia storia da scienziato, perché ho pensato che se tutto quello che sapevamo non aiutava un bambino e se una comunità intera che si muoveva al punto di dargli otto adulti non lo stava aiutando perché lui chiedeva aiuto ad un estraneo in camice in un corridoio verde ed ospedale, qualcosa in tutto questo nostro sistema non aiutava. E quindi mi sono rimessa a studiare e mi sono rimessa a studiare quello che in termini così di scienze, di deep science si chiama neuroplasticità e in termini educativi si chiama potenziamento della zona di sviluppo possibile. Cioè ho cominciato a studiare come si potessero esercitare i domini cerebrali nel determinare miglioramenti nel linguaggio, nella capacità di concentrazione, di memoria, di attenzione, di intelligenza numerica. Sono diventata brava. Brava al punto che i bimbi cambiavano e da un punto di vista di ricerca avevo grandissimo successo perché a livello di ricerca sperimentale quello che ottenevamo era quello che si chiama proprio potenziale migliore della struttura neuropsicologica individuale. Se posso darvi un esempio è il cervello gemma i millesimi di secondo, le memorie che noi imprimiamo attraverso le informazioni che riceviamo. Quindi se vogliamo capire che cosa fa per esempio la vita a scuola in un bambino basta che facciamo un calcolo, un calcolo che io diedi al ministero tanti anni fa e cioè facciamo millesimi di secondo per centesimi di secondo, per decimi di secondo per secondi, per minuti, per ore, per giorni, per mesi, per anni, perché un bimbo sta a scuola, ottenete un numero che tende all'infinito, quel numero misura quello che ciascuno degli adulti che incontrerà determina nel suo connettoma la trasformazione del suo sé. È un potere immenso e quindi mio figlio in un tema in seconda elementare ha scritto che sua mamma quando ha finito di imparare di fare lo scienziato si è messa a fare la maestra delle maestre perché io ho cominciato a spiegare agli insegnanti che cosa si determinava nella neuroplasticità e nel potenziale umano ed ero convinta di avercela fatta ma non è stata così perché qualche tempo dopo e in questo ci avviciniamo all'oggi di cui vi voglio parlare, incontro un altro bimbo, un bimbo a cui avevamo ottenuto un cambiamento in termini di profilo cognitivo straordinario perché aveva recuperato una deviazione standard e mezzo da quello che si chiama genericamente quoziente di intelligenza generale e questo bimbo ad un certo punto mi dice ma adesso che mi hai tolto gli errori mi togli che mi fanno male? E io non ero preparata a capire il rapporto tra l'errore della mente e il dolore nella mente e soprattutto non avevo riflettuto su che cosa fosse il meccanismo del dolore ma se adesso io chiedessi a voi mille persone adulte di ricordarvi della vostra vita e dei vostri errori e non intendo gli errori a scuola del leggere e scrivere e far di conto ma gli errori della vita e vi chiedessi se hanno una traccia più importante nella vostra storia gli errori che avete fatto o il dolore che vi ha provocato e che cos'è che determina la reazione in voi penso che la risposta sarebbe unanime è il dolore che determina la risposta ma cosa fa il dolore? Per spiegarvelo in pochissimi minuti altrimenti mi sgridano vi chiedo dei gradi di libertà cioè vi chiedo di fare quello che in qualche modo ci aiuta a capire subito datevi una pizzicata ma forte ma proprio una pizzicata e vi chiedo questo questo che cos'è dolore o sofferenza? È dolore perché perché abbiamo milioni di alert che dalla struttura che noi andiamo a colpire ci mandano delle informazioni neuroelettriche perché dal cervello attraverso il sistema nervoso periferico questo ribollitore biochimico che produce energia manda informazioni e dice alert ti duole perché ci dice ti duole perché ci dobbiamo ricordare che non dobbiamo più ricorrere a quel determinato tipo di situazione perché ci fa male quindi va a tracciare le memorie perché dice scappa da di là che ti duole allora cosa sono queste emozioni straordinarie? Ecco voi potete leggere sono processi incredibili a livello neurofunzionale ai miei studenti lo spiego questo ribollitore biochimico che produce energia perché noi dormiamo e produciamo tre hertz siamo svegli come in questo momento ne produciamo nove ma basta un'emozione una goccia qualunque di emozione come quella che adesso provo io e che fa sì che sebbene io spieghi queste cose a contesti molto più complessi io sia molto più emozionata adesso perché ho uno scopo grande quello di parlare con voi alla fine ve lo dirò e questa emozione è talmente potente che sebbene il mio cervello sia molto addestrato la mia voce la manifesta e io non riesco a controllare la voce perché l'emozione più potente del sistema cognitivo è il grande decisore ed è un decisore intelligente che però ha solo due risposte e la risposta è mi duele o mi fa bene mi duele o mi fa bene le emozioni nascono nel nostro sistema evolutivo per dirci scappa se ci duele tieni e cerca se ti fa bene e come ce lo dice ce lo dice attraverso un meccanismo straordinario di tipo erziale se noi abbiamo un momento un momento di gioia abbiamo un picco erziale in cui l'onda che si manifesta è un'onda ad altissima intensità ma breve 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 e perché un'onda altissima intensità e breve 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 perché deve tracciarla la memoria di gioia ma siccome la gioia fa bene come ogni meccanismo che fa bene il cervello lo deve cercare ancora e quindi ce l'ha breve il momento di gioia perché così si innescherà il meccanismo della ricerca della gioia ma se invece della gioia noi proviamo angoscia ansia paura allora l'onda è molto diversa perché perché a bassa intensità sta sotto soglia cosciente non si fa vedere dalla mente sta lì sotto perché perché deve dare un aller che dice ricorda 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 scappa da di qua che ti duele scappa da di qua che ti duele ed ecco che i nostri circuiti vengono percorsi da onde che dicono scappa perché ti duele e l'energia che produciamo è un'energia che ci dice scappa che c'è dolore sembra che non ci sia via d'uscita e invece c'è è come vi ho detto non è la mente che controlla le emozioni non è questa è una grandissima illusione da scienziato cognitivo ad un certo punto dovuto arrendermi provocatevi il conforto per esempio come emozione ci riuscite provocatevi l'intesa adesso ordinatevi di provare intesa l'uno verso l'altro non ci si riesce ma guardate che abbiamo degli interruttori e questi interruttori sono catalizzatori non possiamo accendere la luce qui dentro con la forza del pensiero dobbiamo andare all'interruttore giusto e l'interruttore giusto per le emozioni lo dobbiamo capire qual è per esempio se vi chiedo per piacere guardatevi negli occhi l'un con l'altro con intesa vai per piacere abbracciatevi 30 secondi dai coraggio ecco per piacere fatevi una carezza una carezza di conforto ecco se adesso noi misurassimo e misurassimo il battito cardiaco misurassimo la temperatura guardassimo indicatori come il colore della pelle e l'acidità l'acidità del sudore che è stata emanata noi avremo tutto un cambio di indici perché noi abbiamo attivato circuiti neuroelettrici potentissimi e questi sono gli organizzatori questi sono gli interruttori pensate che 30 secondi di abbraccio comanda l'amigdala di produrre l'ossitocina che è che determina nel momento del parto la possibilità di una donna di resistere al dolore 30 secondi di abbraccio quindi come dice mio figlio io adesso mi sono messa ad andare in giro a spiegare alla gente che rimparare a guardare i bambini negli occhi rimparare ad abbracciarli rimparare ad accarezzarli implica mettere nel circuito delle memorie permanenti che sono di emozioni che costruiscono ben essere e non mal essere è acqua e pane la scienza è ritornata all'acqua e pane e in quali memorie vanno le emozioni le emozioni è interessante perché mentre noi impieghiamo tantissima fatica per esempio per studiare per ricordare noi lì andiamo in consumo di energia le memorie che invece vengono determinate da una traccia immediata sono le memorie che tengono emozioni ma se allora noi ad un certo punto nel nostro cortocircuito emozionale facciamo qualcosa come quello che accade sempre cioè mentre per esempio io studio imparo faccio fatica sperimento ansia la mia memoria mette in memoria ciò che studio ma anche l'ansia con cui ce l'ho messa e tutta io ritorno a prendere dal cassettino della mia memoria ciò che ho studiato ci riprendo non soltanto le informazioni che ci ho messo ma anche le emozioni con cui l'ho tracciato e quindi l'ansia entra nel circuito e diventa un'informazione che mi manda in corto e se io apprendo con paura io recupererò la paura e se io apprendo con senso di disistima io riprenderò la disistima ma se io apprendo con sfida a me stesso io riprenderò la sfida a me stesso e questo vi ho detto prima per millesimi di secondo fino a anni di tempi in cui il sistema educante può determinare inquinamento nei circuiti mentali o pandemia di guarigione e io sono per questa pandemia di guarigione anche perché da persona di scienza quello che devo leggere sono anche le scienze a fianco e le ricerche sull'epigenetica mi hanno fatto tremare perché perché studiando cosa accade i topolini che durante la gravidanza vengono messi nell'acqua ghiacciata e poi vengono fatti partorire ci si è accorti e sono dei dati che ci devono far pensare che non accade solo ai topi che i loro cuccioli restano con l'alert della paura per tre generazioni almeno cioè come se le memorie del dolore non fossero soltanto individuali ma transgenerazionali questo significa che noi tramandiamo per proteggere i nostri figli ciò da cui si devono proteggere quali sono le due emozioni più preoccupanti e che preoccupano più me il senso di colpa e la paura di queste non vi posso parlare ma mi posso dire quali sono le emozioni antagoniste al senso di colpa il grande antagonista è il diritto all'errore se noi ci mettiamo in questa consapevolezza che dobbiamo far crescere i nostri figli nel diritto all'errore nell'errore come un processo di modifica e di miglioramento continuo cambia il livello di consapevolezza abbiamo detto sussurri e voci beh se noi diciamo bravo 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 noi diamo informazioni completamente differenti perché è l'emozione che facciamo transitare attraverso l'indicatore che stiamo utilizzando che va quel grande decisore gli dice proteggiti o non proteggiti adesso vi racconto l'ultimo bambino perché ho 18 secondi questo ultimo bambino vi dice perché sono venuta qui facendo una follia tra un congresso e l'altro perché sono in partenza per parigi è un congresso sul cervello che mi mette molta più ansia ancora quindi non è una buona giornata ma allora perché sono venuta qui ve lo dico con la storia di anselmo anselmo è un bimbo asperger ad altissimo funzionamento cognitivo come Rayman per darvi un'idea l'ho incontrato qualche anno fa perché i genitori due medici mi hanno detto va bene tu aiuti tanti bimbi nelle loro difficoltà aiuta anche lui che parla quattro lingue risolve problemi di matematica come se fosse al secondo anno di università disegna il duomo di milano in pochi secondi senza errori ma basta guardarlo e si agita e va in tutti quei comportamenti tipici prototipici delle sindrome autistiche importanti e quindi io non avevo mai provato ad aiutare un bimbo in quella che è la zona di sviluppo prossimale delle emozioni ma ho pensato che in questo cervello straordinario se le due strutture sono strutture che sincronicamente collaborano io potevo aiutare le emozioni con la cognizione e cosa ho fatto gli ho chiesto di insegnare in un quaderno tutte le cose che lui riteneva fargli paura angoscia metterlo in vulnerabilità e ognuno di questo collegare la strategia con cui vincerla questa vulnerabilità questa strategia non aveva importanza che fosse particolarmente sofisticata al più delle volte era una strategia del tutto sua come battere i piedi a terra battere e schioccare le dita ma questo faceva sì che questo flusso di corrente dell'ansia se ne andasse quindi lui ha compilato quaderni e quaderni di queste sue soluzioni ed è venuto a presentarlo ad un congresso di insegnanti 100 insegnanti avevamo addestrato sentite la parola lui a non avere momenti di reazione non favorevole a tanta gente e tutte le insegnanti a non comportarsi in maniera di agitarlo ma ad un certo punto mentre lui parlava una delle insegnanti si emoziona si mette a piangere si alza e applaude quindi tutte le insegnanti 100 insegnanti si mettono a piangere si alzano e applaudono si commuovono quindi lui va in panico e mi scappa dietro una tenda lo vado a prendere battiamo per terra lo prendo per il mignolo ci troviamo ad una cioccolata e devo finire veloce veloce e alla cioccolata lui mi dice luca angeli l'hai visto il moltiplicatore dico no veramente cosa vuoi dire c'erano 100 insegnanti luca angeli alcuni giovani alcuni non tanto quindi in media resteranno altri 25 anni a scuola ognuno di loro avrà al 25 alunni almeno in classe quindi con questa ora di lezione io ho aiutato nella mia vita 62.500 bambini e io sono qui per questo sono qui e voglio dirlo perché voi mi aiutiate a fare della scienza servizievole sono qui e voglio dirlo perché voi mi aiutiate a fare della scienza e ci aiutiate perché siamo in tanti a fare della scienza servizievole e a fare in modo che si diventa molto 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 di più di 62.500 persone grazie buona vita